Ci troviamo all'hotel Mezzatorre con il direttore Sirabella. Per parlare di turismo, direttore, un turismo che secondo qualcuno è in crisi, ma la crisi se c'è tocca anche voi? Allora, la crisi chiaramente una volta che c'è, c'è per tutti. Noi come Mezzatorre, devo dire che stiamo cercando di resistere e di fatti proprio stamattina guardavo i dati e siamo sulla falsa di vero l'anno scorso. Quindi in effetti non c'è calo? No, in questo momento direi che la differenza tra il fatturato dell'anno scorso e quello di quest'anno sono 13.000 euro tra l'anno scorso e quest'anno, che significa niente. In effetti è una piccola differenza, quindi possiamo dire che il turismo di qualità comunque tiene? Sì, quello che io ho notato per quanto riguarda Mezzatorre è che ci sono venuti bene gli italiani. Gli italiani ci sanno per lo meno. Noi abbiamo, malgrado che a livello di fatturato siamo lì, a livello di presenze abbiamo circa 500 camere in meno, per quanto attiene russi e italiani. Quale mercato mi entretiene? Mercato inglese, americano in particolare. Per noi Mezzatorre il mercato è americano, adesso è il primo mercato straniero. Il terremoto fa sentire ancora le sue ripercussioni? Sì, io ritengo di sì perché attribuisco al terremoto e al calo degli italiani. L'isola di Schia può guardare a un futuro migliore? Se sì, come? Credo che ci voglia buona volontà e iniziativa sia da parte dell'ente pubblico e sia da parte degli stessi abbregatori che sono, secondo me, un po' troppo seduti, direi, senza alcuna iniziativa valida per promuovere l'isola verso l'estero. Dobbiamo dire che il low cost in effetti ha preso un po' tutte le politiche delle aziende locali? Assolutamente sì, forse potrebbe anche essere una conseguenza dell'espansione di internet. Però devo dire che gli abbregatori schitani hanno trovato molto più facile abbassare i prezzi che non cercare di avere iniziative a promuovere l'isola e quindi adattare una clientela più darosa, più abbiente.